Oggi vi consiglio un libro a fumetti, o meglio, un libro illustrato. L'autrice è Emma, che avevo già letto per un altro libro che vi consiglio tantissimo, di cui parlerò dopo. Ma intanto il libro che vi consiglio oggi è questo. Cambiamo il sistema, non il clima. È un libro, quello di Emma, estremamente militante, estremamente di sinistra, però fa capire un po' di cose in pochissimo, pochissimo tempo e in maniera molto chiara. Cioè ti fa capire tutte le dinamiche che ci hanno portato a una prossima sesta estinzione di massa. Emma fa risalire tutte queste problematiche a essenzialmente un'unica cosa, cioè il nostro sistema, è il nostro sistema capitalista. Io non sono molto fiduciosa sul fatto di poter effettivamente far crollare il sistema capitalista, magari. Io ci sto provando a mio modo, cercando di proporre l'ecominimalismo. Emma purtroppo sminuisce un po' tutte le nostre azioni che possiamo fare quotidianamente, che è quello che io cerco di fare, cerco di comunicare tutti i giorni. Anche perché effettivamente fa un po' di conti, un po' di calcoli e li mostra e fa capire come il nostro singolo potere sia niente rispetto al potere di una multinazionale. Potere che effettivamente potrebbe essere sfruttato al meglio, come qualche rara multinazionale fa. Il libro in realtà vorrebbe essere anche positivo, nonostante tutta la prima parte un bel po' pesante. Solo che le soluzioni che propone Emma sono molto radicali e molto utopiche. Comunque vi consiglio questo libro perché stimola sicuramente la riflessione. E poi vi suggerisco anche l'altro libro di Emma che ho letto qualche mese fa, che si chiama Bastava chiedere, che mi ha veramente aperto gli occhi su una problematica che soprattutto essenzialmente le donne soffrono nella nostra società e che è quello del carico mentale. Bastava chiedere la risposta del tuo compagno o marito quando tu ti lamenti che non ha fatto nulla per aiutarti a far da mangiare, a tenere i bambini, a risistemare casa, eccetera. E bastava chiedere, no, devi pensarci te prima di arrivare io a dovertelo chiedere. Secondo me è bene anche che soprattutto noi donne prendiamo coscienza di questo problema, del carico mentale, perché fare del bene nella nostra società è un altro carico mentale. Cercare di risolvere i problemi ambientali è un altro carico mentale, che se si somma tutta la gestione quotidiana dei figli, casa, eccetera, non è indifferente, per cui sicuramente dovremo prima risolvere il problema del carico mentale e poi cercare di impegnarci per l'ambiente.